La vecchia panda, ormai fuori produzione, è oggi in via d'estinzione, ma non nella piccola pittoresca città di Amantea. Qui è ancora possibile imbattersi in simili esemplari. Scintillanti o arrugginite, eleganti o polverose, le vecchie panda si trovano in ogni strada, in ogni angolo, di ogni colore. Ma chi sono queste panda e chi è che continua a dar loro la vita?